Allora, si è tenuto questo Consiglio dei Ministri che proseguirà lunedì pomeriggio alle 16.30 per concludere l'esame, per le ragioni che vi dirò, del decreto legge e del disegno di legge avvinati in materia di razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni di lavoro pubblico. Nel frattempo vi dico le altre decisioni prese dal Consiglio dei Ministri e poi alla fine il Ministro degli Affari Esteri riferirà su alcuni aspetti della situazione internazionale nelle aree di maggiore crisi. Il Consiglio dei Ministri, tra le cose che ha approvato, dunque vi è l'approvazione definitiva di un regolamento importante di attuazione della normativa sul federalismo fiscale che prevede una uniformazione dei conti pubblici secondo nuove modalità delle amministrazioni centrali dello Stato per dare maggiore evidenza e trasparenza alle voci di entrate e alle voci di spesa. Su proposta dello stesso Ministro degli Esteri e del Ministro dell'Interno è stato anche approvato un disegno di legge di ratifica per l'accordo tra Italia e Stati Uniti d'America per la cooperazione nella prevenzione e lotta alle gravi forme di criminalità organizzata. Anche questo è un testo importante perché consente essenzialmente gli scambi di informazioni, soprattutto per quanto riguarda i profili del DMA e per quanto riguarda le impronte dattiloscopiche. E' stato poi anche approvato, è stato anche autorizzato inoltre il Ministro dell'Istruzione ad assumere a tempo indeterminato per l'anno scolastico 2013-2014 672 dirigenti scolastici e 11.268 unità di personale docente ed educativo. Per quanto riguarda il complesso di misure di notevole rilevanza attinenti alla razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni e al lavoro pubblico, l'approfondimento di alcuni temi si è dovuto essenzialmente all'esigenza di distribuire queste norme, di cui poi vi darò qualche indicazione, queste norme tra il disegno di legge e il decreto legge. Questo in modo da concentrare le misure più importanti e più urgenti nel decreto legge e di affidare a un più approfondito dibattito parlamentare le norme contenute nel disegno di legge. L'accordo quindi sul contenuto di queste norme è stato raggiunto nel Consiglio dei Ministri, naturalmente alcune di queste misure sono già comparse ampiamente sulla stampa, vi sono misure che riguardano un meccanismo importante di stretta sul fenomeno della cosiddetta flessibilità in entrata nelle pubbliche amministrazioni, quindi dei contratti a termine, dei fenomeni precariato e questo per contrastare il fenomeno del precariato da qui in poi e nello stesso tempo si affronterà con dei meccanismi che però assicurino selettività il problema dell'enorme massa di precari che in questi numerosi anni si sono accumulati in pressione nelle pubbliche amministrazioni, tra l'altro anche in settori di servizi pubblici molto importanti quali la sanità e i servizi socioassistenziali. Vi sono comunque anche norme che mirano a un'ulteriore riduzione e razionalizzazione della spesa pubblica, in particolare in materia di consulenze e di auto blu, vi è probabilmente una soluzione all'annoso problema della tracciabilità dei rifiuti e altre misure in materia di imprese strategiche di rilevante interesse nazionale. Direi anche che vi è una norma che riguarderà la razionalizzazione delle politiche di coesione volte al rafforzamento degli strumenti per migliorare la capacità di spesa delle amministrazioni pubbliche per i fondi strutturali in vista ora del nuovo ciclo 2014-2020. Vi è ancora una norma che riguarda un forte incremento delle piante organiche dei vigili del fuoco e in genere tutta la materia di prevenzione incendi. Tutte queste norme e altre evidentemente su cui, come vi dicevo, vi è l'accordo sia sul piano tecnico che sul piano politico, richiederanno un approfondimento che si svolgerà in questo proseguo del Consiglio dei Ministri lunedì pomeriggio alle 16.30 in quella lunedì pomeriggio avremo quindi due provvedimenti distinti il decreto legge per le misure più urgenti, il disegno di legge per le altre misure che non presentano i requisiti dell'urgenza richiesti, come loro sanno, dalla Costituzione perché possano essere inserite nel decreto legge. E su questo, un po' dopo invece, ora il Ministro degli Esteri potrà quindi riferirvi su questi temi di politica estera e internazionale affrontati nel Consiglio dei Ministri. Grazie, grazie mille. Il Presidente del Consiglio, avevo chiesto al Presidente del Consiglio di poter svolgere un'informativa al Consiglio dei Ministri, in particolare su tutte le attività svolte nel mese di agosto e ovviamente in persecuzione di quelle precedenti per quanto riguarda gli avvenimenti sempre più drammatici e credo che le ultime questioni che riguardano la Siria, credo che usare la parola orrore sia forse la parola più adeguata. Informando i colleghi sia degli esiti del Consiglio dei Ministri straordinario che avevamo voluto con molta insistenza, che si è tenuto il 21 agosto a Bruxelles sulla questione egiziana, in cui avrete visto i risultati, quindi su quello magari non torno, ma già durante la parte finale del Consiglio dei Ministri ricominciavano ad arrivare le notizie su utilizzo di armi chimiche in Siria, lo stesso Consiglio si era già espresso per una richiesta di concessione di libertà di movimento e quindi di un'indagine a tutto campo e non limitata ai territori, tre territori così come era stato il precedente mandato per gli ispettori delle Nazioni Unite presenti da domenica sul territorio siriano. Questa è l'attività che secondo me e secondo noi, secondo anche gli altri partner e non solo europei, è la precondizione, cioè quella di avere un'informazione certa sulle modalità, sulle responsabilità, su che cosa è avvenuto, per poi pensare a qualunque altro tipo di reazione. Da mercoledì, come avrete visto, si è riunito il Consiglio di Sicurezza, è in corso un'attività diplomatica a tutto raggio, ho visto ieri il Ministro del Catare e oggi pomeriggio quello turco. Abbiamo avuto i primi contatti con l'amministrazione americana e ne avremo un altro tra mezz'ora e contatti anche con l'amministrazione russa che ha e sta premendo e ha chiesto al regime di Damasco di consentire e collaborare con gli ispettori delle Nazioni Unite presenti sul territorio. Lo stesso invito, la stessa prestione è stata rivolta evidentemente alla formazione dei ribelli e comunque ai militari dei ribelli presenti in quelle zone. Nel frattempo quello che si sta manifestando è un aggravamente dell'esodo che già aveva raggiunto cifre spaventose di un milione di rifugiati in territorio libanese, segnalo che Libano ha un po' meno di 5 milioni di abitanti, ospita un milione di rifugiati siriani e la Giordania che più o meno con lo stesso numero di abitanti ne ospita oltre 600 mila. Io stesso avevo visitato il campo profughi dove l'Italia è presente con ospedali da campo e quant'altro. Quindi questa è la situazione su cui stiamo lavorando perché sia, è intervenuto anche credo adeguatamente e pesantemente il segretario generale delle Nazioni Unite ed è intervenuto anche l'inviato speciale Braimi che ha dichiarato come questa ulteriore escalation drammatica della situazione renda ovviamente sempre più auspicabile almeno la tenuta di Ginevra 2. Voglio solo concludere con una riflessione più complessiva che credo sia stata anche condivisa dagli altri colleghi europei e non solo. Quello che sta avvenendo nella parte sud del Mediterraneo e che ha implicazioni diciamo fino all'Afghanistan è un enorme scontro all'interno del mondo musulmano, non solo quello tradizionale che siamo abituati a conoscere tra sunniti e sciiti. Quello che rende ancora più grave e più complicata la situazione è un enorme scontro di varicazione geostrategica e quindi poi di posizionamento all'interno della famiglia sunnita. Per cui da una parte paesi come la Turchia o il Qatar che hanno sempre sostenuto i fratelli musulmani sia in Egitto che in Tunisia eccetera e dall'altra invece Arabia Saudita, Kuwait e Emirati che hanno come sapete altri tipi di riferimento che sono più diciamo salafiti, vaabiti. In questo scontro veramente gigantesco in questo momento evidentemente l'Arabia Saudita, Emirati e Kuwait sono quelli che detengono più leve sostanzialmente e a cui si aggiunge ovviamente e si aggrava e quindi si aggiunge quello più tradizionale in me che conosciamo tra sunniti e sciiti. L'insieme porta in ebollizione in uno stato di veramente drammatico paesi che vanno, speriamo la Tunisia no e che riesca il tipo di dialogo e di compromesso su cui stiamo intensamente lavorando e lo stesso sarò in Tunisia la settimana prossima ma che colpisce e mette come vedete in situazioni drammatiche dalla Libia passando per l'Egitto, Giordania, Libano, Siria, paesi del Golfo e Turchia ovviamente per non parlare di tutti i riflessi che si possono anche avere su Iran e poi Iran-Afghanistan. Quindi un'intera fascia gigantesca con spostamenti poi di popolazione, di drammi inenarrabili. Gli ultimi dati che vediamo su bambini non accompagnati e sull'orrore dell'utilizzo delle arbi chimiche ha implicato e continua ad implicare un'intensa attività di tutti questi mesi. Dico questo perché rispetto a analisi che ho sentito fare sull'Europa è stata lenta o distratta eccetera la mia analisi è diversa. La mia analisi è che fosse solo questo, fosse solo che l'Europa era distratta si potrebbe rimediare nel senso che evidentemente si può fare più accelerare l'attenzione. Il problema è che la situazione è che invece abbiamo tentato peraltro con gli Stati Uniti e d'altro una mediazione in Egitto con grande intensità, per una volta come si dice l'Europa ha parlato con una voce sola, ma questa mediazione in Egitto è fallita il 9 agosto. Leve economiche non ne abbiamo molte da usare, voglio segnalare che di fronte ai 12 miliardi di dollari messi sul tavolo da Arabia Saudita, Kuwait e Emirati, le relazioni di cooperazione per esempio con l'Egitto a livello europeo sono un po' meno di un milione di euro in tre anni, un miliardo di euro in tre anni dal 2011 al 2013 che sono evidentemente nella fase conclusiva e il miliardo e 300 milioni di dollari degli americani sul aiuto e sostegno all'esercito egiziano. Quindi dobbiamo trovare altre leve perché evidentemente la sola leva economica si rivela particolarmente fragile. Aggiungo sulla cooperazione italiana che può essere una informazione importante, una delle più presenti per esempio in Egitto, si tratta sia di remissione del debito sia di progetti veri e propri, una cooperazione consistente, ma lo schema soprattutto diretta da attività sociali e che porteremo avanti come quelle europee e quelle più direttamente attenenti alla popolazione, mentre l'aiuto al bilancio è già stato sospeso in Unione Europea dal 2012 e rimarrà sospeso. La proposta italiana di congelamento delle